Percelli Jazz Filarmonica e Associazione Il Porto. Un tributo a Paolo Conte è giusto chiamarlo tributo o è anche qualcosa di più? No, è un tributo ma è un omaggio fatto con tutto l'affetto possibile perché Paolo Conte è un personaggio cui si vuole bene con questo suo essere burbero di poche parole però ci riconosciamo, lui lo dice, arriva dal profondo Monferrato, Asti e quindi ha tutte le caratteristiche di chi vive in quelle zone, in quella campagna lo dice, lui dice io sono come quelle persone tagliate con l'accetta di poche parole eccetera e noi li riconosciamo perché è vero che noi siamo terre d'acqua però piemontesi lo siamo, capiamo che cosa vuol dire ma musicalmente lo consideriamo anche un genio ma è un genio, per come lui è riuscito a combinare musica parole è un genio, con questo suo modo di raccontare molto cinematografico, di evocare immagini fra il pubblico è stato, qualcuno gli voleva dare premi prestigiosissimi, ha vinto il premio Montale per la poesia che lui disconosce perché dice io sono un musicista, le parole vengono dopo la musica e faccio anche molto fatica a inserirle nella musica che ho scritto. Ci divertiremo, i pezzi che abbiamo scelto sono bellissimi, abbiamo dovuto ovviamente sacrificare il repertorio di Paolo Conte, è enorme per cui bisognava, i pezzi sono 16, io sono la parte cantata e diciamo letteraria e qui abbiamo invece la parte musicale, Gianni Bantoin, l'anima dell'organizzativa e musicale anche della filarmonica. Ecco, pezzi fedeli all'idea, quindi al pensiero e a come li ha sempre proposti Paolo Conte o anche magari rivisti, rivisitati? Assolutamente, fedeltà all'idea di Conte per quanto riguarda la musica, la stesura della partitura, l'interpretazione. Le grosse novità sono che alcuni di questi brani sono stati riarrangiati musicalmente da tre musicisti, che sono Walli Ali Franchini, Stefano Profeta e il giovane nostro amico vercellese Marco Anastasio, riarrangiati per Big Band. Cosa significa? Arrangiare musica per una struttura musicale, che è la Big Band, che non ha mai fatto pezzi di Paolo Conte, perché Paolo Conte nei suoi concerti ha sempre avuto un certo numero di musicisti, vari strumenti, ma mai una Big Band jazzistica standard. Quindi il valore aggiunto di questo spettacolo è sicuramente l'arrangiamento, il riadattamento di brani, magari eseguiti con due o tre strumenti, eseguiti per 20 musicisti. Altre cose, sempre per rimanere anche, come dicevo prima, alla fedeltà di ciò che ha fatto anche comunque Paolo Conte con la sua musica, alcuni brani invece di 20 verranno super super asciugati, si arriva addirittura a un'interpretazione di brani con due musicisti, che supportano Roberto nella sua parte di racconto e cantata. Quindi si passerà da due musicisti a 22 musicisti, ecco, con una grossa attenzione alla musica e anche ad alcune novità proprio tecniche, tecniche musicali. Credo che per la qualità dei musicisti che parteciperanno a questo concerto, l'idea, insomma il lavoro che c'è stato dietro, l'impegno anche economico è stato grande, ecco, credo che vada riconosciuto anche il merito di chi ha creduto in questo progetto. Sicuramente, altrimenti non avremmo potuto farlo. Quindi, a parte gli sponsor istituzionali come il Comune di Vercelli, come la Fondazione, Cassa di Risparmio, che ci è sempre accanto in tutti i nostri progetti, questa volta abbiamo trovato tre compagni di viaggio molto importanti, che sono ASM Vercelli, la Meeting Art di Vercelli, e SPSPA, che è un'azienda che lavora nel campo del riso, della trasformazione del riso dei prodotti alimentari, che è vicino a Pezzana, che è la prima volta, Meeting Art ci ha già sostenuto in altri progetti, ma ASM e ASP sono la prima volta. Io credo che saranno contenti di aver lasciato che il loro nome fosse stampato su questa locandina. Ricordo solo, e guardo dritto in camera, che lo spettacolo è l'8 di aprile alle ore 17, domenica, quindi un orario che va bene per tutti, costa solo 15 euro. Abbiamo cercato di tenere i prezzi, non un prezzo politico, ma un prezzo popolare, sono due birrette, quindi potete venire, più un euro di prevendita, chi verrà sicuramente non sarà deluso. Poi ci sono un sacco di estimatori di Paolo Conte, abbiamo fatto anche pubblicità a Novara, a Casale, insomma, cercando di coinvolgere il più possibile, perché, e speriamo anche di poterlo portare in quelle due città, magari quest'estate, perché questo è uno spettacolo che si può fare anche all'aperto.